che va a delle associazioni che operano nel sociale, istituzioni, associazioni che chiudono un circolo vifuoso come dovrebbero fare comunque sempre in ogni caso. Sì, un bellissimo momento oggi che andiamo, si chiude un percorso con l'ADSPEM FIDAS in collaborazione con l'AIL, un progetto che prende avvio nel 2018, quindi anche qui un ITER diciamo non semplicissimo con l'acquisizione di questo bene da parte della città metropolitana, un ITER che oggi trova appunto conclusione in un progetto, permettetemi di dire, che speriamo possa avere un ritorno per la nostra gente in un settore che come quello sanitario spesso e volentieri, soprattutto alle nostre latitudini, molto ma molto emergenziale, quindi questo tipo di strutture possono essere sicuramente un sostegno maggiore per quelle famiglie maggiormente bisognose che hanno la necessità di avere un sostegno, di vedersi vicine ovviamente istituzioni perché per me questo tipo di associazioni sono delle istituzioni a tutti gli effetti che collaborano appunto con un ente come la città metropolitana che è orgoglioso di poter oggi essere a fianco a loro e di poter manifestare appunto questa importante iniziativa.